Musica Buongiorno, oggi siamo qui a Fano con Filippo Borrioni, curatore della mostra L'Arte della Diversità. Come nasce l'idea di un evento come oggi? Buongiorno a tutti gli spettatori, questa mostra è stata promossa dalla Fondazione Arca, Arca è l'abbreviazione di Autismo, Relazioni, Cultura e Arte e OSI con Fartigianato Marche, che è l'associazione di categoria che raggruppa le imprese balneari delle Marche e che io rappresento. L'idea nasce con la volontà di organizzare una mostra d'arte che mette in risalto quelli che sono gli artisti o le particolarità del territorio, quindi abbiamo degli artisti molto importanti, che hanno esposto in tutto il mondo come Mario Giacomelli e Renzo Tortelli, che utilizzano la fotografia ed altri due artisti che si chiamano Walter Bastari ed Edoardo, che espone un bambino di 13 anni, i dipinti vedete qui alle nostre spalle, che espone per la prima volta. Ecco, abbiamo voluto comunicare come ci siano differenti modi di esprimere le proprie emozioni. Cosa si spera di poter ottenere attraverso questo appuntamento? Noi speriamo, anzitutto, di far apprezzare il bello e l'arte alle persone. In secondo luogo, come accennavo prima, vorremmo fare in modo che la diversità rappresenta un valore e non un ostacolo. Diversità intesa come differente, come diciamo prima, metodo espressivo, e diversità in quanto ogni artista, ogni persona ha un modo differente di comunicare le proprie emozioni. Quindi la diversità come ricchezza e non come messaggio di discriminazione. Quante persone avete avuto dal giorno dell'apertura? Abbiamo avuto un buon risultato. In tre giorni, più di 170 visitatori. Questo ci fa molto molto felice. Inoltre abbiamo organizzato anche degli eventi molto interessanti. Abbiamo avuto, ad esempio, Lorenzo Cicconi Massi, che è un fotografo molto importante, che ringraziamo, che sta esponendo in questi giorni a Milano e a Roma, che ha fatto una visita guidata sulle opere di Mario Giacomelli. E sabato scorso un dialogo tra la dottoressa Stoppioni e Alfredo Pacassoni, il maestro del Carnevale di Fano, che partendo dalle opere di Edoardo, hanno dialogato sull'insegnamento dell'arte e sullo sviluppo della creatività. Quindi anche a quest'ultimo incontro in particolare erano presenti più di 50 persone e siamo molto felici di questo risultato. Come mai il titolo, l'arte della diversità, scelto per l'evento? Il titolo e la diversità fa riferimento a due cose in particolare. La prima è la diversità, non in ordine di importanza ovviamente, la prima è la diversità di espressione, nel modo, quindi è una mostra che ha all'interno sia delle fotografie e sia dei dipinti. Ma la cosa più importante è quello che, il messaggio che spiegavo prima, cioè la diversità, ogni persona ha un modo differente e diverso di esprimere le proprie emozioni e in particolar modo gli artisti hanno un modo differente e diverso di esprimere le emozioni e deve voler far percepire la diversità appunto come un valore, come una ricchezza e non come un ostacolo. Quali reazioni sono state ottenute dal pubblico finora? Erano quelle sperate? Ma in parte, allora, ci aspettavamo meno visitatori e di questo siamo molto contenti che ce ne siano stati tanti. Ci aspettavamo qualche donazione in più, perché la mostra ha anche lo scopro, non abbiamo detto, oltre di sensibilizzare sulle tematiche che abbiamo detto, anche quello di raccogliere fondi per un progetto di turismo accessibile della Fondazione Arca. E quindi ci aspettavamo magari qualche donazione in più, ma non importa, l'importante, la cosa più importante è diffondere il messaggio. Come è nata l'idea di mettere in bordo i quadri di Edoardo? L'idea è nata con Leonardo Pambianchi, l'ex presidente della Fondazione Arca, che purtroppo adesso non c'è più, e che è stato un grandissimo amico e una bellissima persona, di grande sensibilità. E con lui, parlando di arte, parlando di fotografi e di altre cose, ci è venuto in mente di organizzare una mostra che li portasse alla luce i suoi dipinti. E così abbiamo deciso di esporli, perché secondo noi sono molto ricchi, molto belli, sia come contenuti, sia come colori, e in più raccontano veramente tanto di Edoardo. Ci sono delle descrizioni che vi invitiamo a leggere venendo qui alla mostra, che sono veramente delle poesie, non delle semplici descrizioni. Grazie per quanto ti ha avuto. Grazie per quanto ti ha avuto.